Anche il candidato alla presidenza della regione Stefano Caldoro era a Roma per la manifestazione unitaria del centro-destra contro il governo Conte. Incontro con i commercianti per Valeria Cerammino, candidata del Movimento 5 Stelle a Palazzo Santa Lucia. Giovanni Messina. Lancia segnale di compattezza anche in vista delle prossime elezioni regionali il centro-destra. Nella manifestazione di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che si è tenuta in piazza del Popolo a Roma, ci sono i leader Meloni, Salvini e Tajani e c'è Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della regione Campania, che con i cronissi si sofferma sul tema dello smaltimento delle ecoballe. Abbiamo letto questa mattina che abbiamo il problema delle ecoballe, sembrava che fossero andate via, sono tutte lì e non riusciamo a togliere, anzi quando le mandiamo ce le restituiscono indietro. È un grande dramma, è un grande imbroglio, una grande truffa fatta dal centro-sinistra, dall'attuale presidente, la serietà del centro-destra risolverà questo problema definitivamente. A Napoli invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, ha incontrato una rappresentanza di una categoria dei commercianti.